E sono ancora qua! Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì, eh sì, ciao a tutti, ciao, ciao e purtroppo sono ancora qua. Non sono riuscita a partire. E la cosa peggiore è che ho comprato il biglietto aereo, ho fatto anche la prenotazione per fare il testo, ho prenotato perché prima di partire bisogna fare il testo e non risultare negativa e invece ho deciso di non partire, mi avevo preso tutte le informazioni e niente. Ho deciso di non partire, sono ancora qua perché in Umbadia, nel posto dove dovevo andare, è veramente tutta la zona rossa. Abbiamo previsto di festeggiare la Pasqua lì, di stare un bel po' di giorni e da molto che desidero andarci e invece sono qui, non sono partita, quindi sono fatta la Pasqua qui a Lussemburgo. E perché non sono partita? Perché infatti mi avete scritto, ma sei riuscita a partire? Sì, no, dove sei? Per Pasqua? No, non sono riuscita a partire perché, dicevo, la Lombardia è in zona rossa, gli infettati stanno aumentando sempre di più, il corona continua ad andare avanti, è una situazione veramente non piacevole, quindi ho deciso di non partire perché comunque per proteggere la mia famiglia, soprattutto i miei genitori, perché prendendo un aereo il rischio comunque di essere, perché si sta insieme, prendere un aereo e essere per quanto tempo? Un'ora e mezza mi sembra, un'ora e 45 a contatto con delle persone, poi scende dall'aereo, aeroporto, è meglio evitare, quindi non volevo correre il rischio di infettarmi, ma non tanto per me, ma soprattutto di prendere il virus e di portarlo poi a casa dei miei genitori, perché così che avrei, era questo il programma, di andare a dormire appunto a casa dei miei genitori. Però quindi voi potranno dire, perché allora non si è andata a dormire a casa, potete andare a dormire a casa di tuo fratello? No, la stessa cosa, perché comunque in quei giorni si sarebbero stati tutti insieme, quindi loro c'è la differenza di un piano all'altro, i due appartamenti, in un piano c'è mia madre e mio padre, in un altro appartamento c'è mio fratello con la sua famiglia, e quindi saremmo stati insieme e quindi il rischio alla fine sarebbe stato troppo alto, siccome appunto i miei genitori non sono giovanissimi, è meglio evitare. E sinceramente sono contenta di aver fatto questa scelta, però nello stesso tempo, noto che il tempo passa, passa, e questo corona non si blocca, questo corona continua veramente, altamente a condizionare le nostre vite. si sperava nei vaccini, nel vaccino, in alcuni casi il vaccino sta veramente agendo in maniera positiva, in alcuni casi, ahimè, abbiamo visto delle persone che hanno avuto una reazione negativa, comunque le vaccinazioni stanno aumentando, non so assolutamente che dirvi, vi posso soltanto dire che ho preso questa decisione, che sono stata qui, a Luxemburgo, che abbiamo rinunciato al Natale, abbiamo rinunciato alla Pasqua, e mi sa proprio che rinunceremo anche all'estate. L'altra volta, per Natale, avevamo deciso io e mio marito di andare con la macchina, ma c'erano delle frontiere chiuse, non ricordo bene in quale paese, mi sembra la Francia, quindi nel lockdown, questa volta ho detto, beh, compro per me, compro il biglietto aereo, voglio comunque provare ad andare, se compro il biglietto aereo, mi sento più sicura, motivata ad andare, mi sento più sicura che il viaggio, che sicuramente partirò. E poi, invece, ho visto che la situazione, la Lombardia l'hanno messa in lockdown, e poi ho visto che nonostante, no, no, sì, lockdown, proprio zona rossa, e che nonostante tutto, i giorni passavano, la data del mio viaggio si avvicinava, e nonostante tutto, le persone, il virus stava sempre di più, veramente, non è molto, non è facile, non è molto facile, e questa volta, per la prossima estate, penso proprio, neanche di, non penso proprio che partirò, non penso neanche questa volta, di pensare a partire, penso che la cosa migliore, sia veramente, che io resti tranquilla, che faccio passare questo periodo, e cerco di concentrarmi su altre cose, perché comunque, fortunatamente, ho molte cose da cui occuparmi, e tenere appunto, il cervello, sempre molto occupato, perché, perché veramente, non partire è uno dei piaceri della vita, è uno, è un'esigenza, non partire, comunque, sono qui, sicuramente, molti di voi non sono partiti, anche, sicuramente, tra le persone che, mi stanno guardando, ci sono, delle persone che non vedono, i propri figli, i propri, i propri cari, già da molto tempo, che dire, è meglio, sorridere, e dire, che fortunatamente, siamo una generazione fortunata, perché c'è l'internet, quindi, ci possiamo vedere, videochiamate, almeno, così, a distanza, possiamo, tenarci, uniti, e quindi, non bisogna, ovunque, sottovalutare, questa, grande, grande importanza, cerchiamo, di rimanere, sempre, positivi, io, vi saluto, e ci vediamo, al prossimo video, un bacio, ciao, 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 ciao,